Allora, dottoressa, cosa si può fare per gli ipodromi per continuare questa grande tradizione che c'è in tutta Italia e anche in Toscana? Che si può fare? Sicuramente tanto si può fare. Innanzitutto noi come Ministero possiamo in qualche modo promuovere anche una riorganizzazione di quelle che sono le politiche di filiera, per far sì che veramente diventi una filiera unica, le anelli di un'unica catena e possiamo fare tanto nella misura in cui dobbiamo aiutare le singole e diverse componenti di questo settore a sentirsi parte di un corpo unitario perché purtroppo questo è il problema dell'Ippica, l'endemica divisione. A noi le risorse finanziarie purtroppo non sono illimitate, anzi ad oggi sono poche e incerte, quindi aspettiamo un attimino quello che la politica ci dà e possiamo al meglio cercare di utilizzare tra virgolette queste risorse. Come sta il settore? Non bene decisamente, però mi domando quale settore in Italia adesso sta bene? Diciamo che risente di una gravissima crisi, un calo delle scommesse che non ha uguali, purtroppo non siamo riusciti a tenere i vecchi appassionati, non siamo riusciti a purtroppo catalizzarne altrettanti e quindi tanto si deve fare. Però una realtà come quella toscana è sicuramente un archetipo a cui fare riferimento, voglio dire, un'assoluta realtà di eccellenza.